Ok, sto per mettermi contro una delle aziende più di tendenza al mondo, per cui promettetemi che non tirerete fuori i forconi appena lo dico. Netflix fa degli sbagli nella comunicazione. Ho già testato con mano che alcuni reputano una cosa del genere come un problema di minima importanza, ma sinceramente ho sedito più e più volte parole frutto della disinformazione causata da alcuni elementi della piattaforma streaming statunitense, per cui credetemi quando dico che le ripercussioni di un'informazione parziale possono acquisire dimensioni davvero enormi a lungo andare. Più banalmente, Castlevania non è un anime. Il videogioco originale è giapponese, lo stile del character design non ricorda più una serie orientale che una occidentale, ma la produzione è americana come molti di quelli che ci hanno lavorato. E qui si torna al solito discorso. È giusto definire anime qualcosa solo perché potrebbe vagamente ricordare, che so, Vampire Hunter D? A questo punto mettiamoci a definire serie animata o cartone animato quelle serie orientali che ricordano più delle produzioni occidentali, no? A pensarci, anime che sono davvero di produzione giapponese come Topo Gigio, vengono costantemente considerate di provenienza occidentale, per cui, vabbè. La situazione è sempre stata tremendamente confusa. È come se non bastasse, un gigante dell'intrattenimento, qual è Netflix, si mette a inserire una serie scritta da Warren Ellis, celebbe autore di fumetti inglese, prodotta da Frederator Studios, che sono quelli di Adventure Time e Powerhouse Animation, nella categoria anime. Sicuramente c'è dietro il tentativo di indirizzare il prodotto verso un pubblico preciso, tenendo conto della natura maggiormente narrativa, che non ricalca gli schemi tipici delle serie occidentali moderne, in cui è presente per una buona parte della storia una certa quantità di episodi autoconclusivi, e delle caratteristiche che lo legano maggiormente a una produzione orientale. Ciò non toglie che il termine anime in sé dovrebbe indicare esclusivamente l'animazione giapponese, perché è per questo motivo che si è diffuso in tutto il mondo, altrimenti ogni paese avrebbe usato il proprio equivalente linguistico e buonanotte ai suonatori. Gli anime sono cartoni animati, ma i cartoni animati non sono anime, perché la parola in sé indica una provenienza geografica ben precisa. Come in Giappone, il cartoon viene usato per racchiudere le produzioni occidentali, e come diceva un famoso regista nostrano in uno dei suoi più celebri film, Le parole sono importanti! Non possiamo arbitrariamente appropriarci di termini che non ci appartengono davvero neanche culturalmente, solo per sfruttare una tendenza come quella dell'animazione giapponese che è sempre più presente nella vita quotidiana. Perché un uso sbagliato porta anche a una vicezione sbagliata. Nel caso specifico di Castlevania, molti hanno davvero creduto che la serie potesse essere definita tale, in virtù del fatto che su Netflix è inserita in quella categoria, anche se la sola presenza di Ellis, rinomato autore inglese e attivo molto negli Stati Uniti, avrebbe dovuto far accendere un campanellino d'allarme. Con la velocità con cui si è voluta l'informazione, si tende a fermarsi ad una comunicazione immediata, come può essere appunto una definizione su una piattaforma streaming. E non è da sottovalutare quindi l'importanza di un'informazione corretta in casi come questo. Sia perché Netflix ha un bacino di utenza già di per sé veramente grande, sia perché in quel bacino ci sono persone col potere di influenzarne molte altre. Mi dispiace andare a parlare di nuovo su di lui perché poi sembra che mi ci accanisco e non è questo il caso perché l'ho conosciuto, mi ha regalato il suo fumetto e tutto. Ma visto che siamo in pochi a parlare di queste cose e lui è uno tra i più grandi, Mangaka 96 ad esempio è stato vittima di questo sbaglio. In un suo video su 5 anime da vedere su Netflix, consiglia appunto Castlevania non specificandone la provenienza. E potete immaginare anche da soli che un pubblico tanto vasto e soprattutto giovane possa essere condizionato nel considerare la serie un anime. Naturalmente è responsabilità degli influencer informarsi correttamente, ma posso anche capire e fidarsi di ciò che dice Netflix, perché comunque si tratta di un colosso dello streaming, con un volo già fondamentale per la società contemporanea. Tuttavia anche i più grandi sbagliano e quando succede bisogna farlo notare. Perché in questi mesi si è montato un hype pazzesco per la quantità di serie anime prodotte da Netflix, visto che è questa la definizione data, serie di Netflix. E allora com'è che in realtà l'unico ruolo della piattaforma è quello di distributore e ancora non è per niente chiaro se ci abbiano messo soldi o meno? Voi avete mai sentito dire da un qualsiasi distributore dire che un film l'hanno prodotto loro? A letto delle informazioni vi lasciate, Netflix non è parte del comitato di produzione di quasi nessuna delle serie attualmente pubblicate, da BD Beginning a Sword Guy Reanimation, che quindi non gli appartengono, ma vengono lo stesso marchiate a fuoco dal logo che dovrebbe indicare gli originals della piattaforma. All'annuncio di tale iniziativa fu usata una comunicazione entusiastica, come se Netflix fosse arrivata dall'alto dei cieli con i propri soldoni a salvare l'animazione giapponese. Peccato però che non ci fosse certo bisogno di alzare la produttività di un settore che sforza già 200 serie l'anno solo per quanto riguarda il circuito televisivo. Per di più è venuto fuori che il tempo di realizzazione di Devilman Cry Baby, indubbiamente la prima hit di quest'anno, è stato inferiore a quello di un classico anime televisivo. Per cui va bene che un'azienda debba utilizzare delle strategie di marketing efficaci, ma neanche è giusto far passare dei messaggi sbagliati tramite informazioni parziali. Seven Deadly Sins, ad esempio, non è di Netflix. Non c'entra niente con la piattaforma a livello produttivo, ma ha quel marchio perché ne hanno l'esclusiva in Italia e così per altre decine di serie. Direte, eh, vabbè, ma si sapeva, dai. Ma non è una risposta plausibile. Perché sì, chi aveva già una conoscenza pregressa di quella determinata produzione, ne può essere a conoscenza, ma chi vi si approccia per la prima volta e nota l'inequivocabile scritta Netflix al lato, la percepisce come la propria del sito. È innegabile. E non fraintendetemi, io sono utente di Netflix dal giorno 1, uso davvero tantissimo ed è diventato in pochissimo tempo parte della mia video in quotidiana. Come youtuber, ho però delle responsabilità nei confronti di chi mi guarda, così come le ha chiunque voglia fare informazioni sugli anime. Dobbiamo renderci conto che parliamo di un medium giovanissimo, appena entrato nella sua fase di maggiore esposizione, ed è fondamentale comunicare correttamente anche piccoli dettagli che agli occhi dei più potranno sembrare rilevanti, perché le piccole cose nel lungo termine contano davvero molto. Ebbene, adesso non so se aspettarmi una quarela. Non penso questa sia diffamazione, perché sono tutte informazioni comunque facilmente reperibili e che con un attimo di attenzione si capiscono anche non conoscendo effettivamente la situazione. Però per me è davvero importante che attorno agli anime si crei un settore di informazione in cui ogni dettaglio sia veicolato nella maniera giusta, perché altrimenti si rischia di portare un medium che comunque attualmente non è comunicato in maniera proprio corretta da chiunque, ad essere sempre meno capito socialmente. Non parliamo comunque di qualcosa di così semplice da poter venire veicolato con superficialità. Il mondo degli anime è veramente tanto complesso, soprattutto a livello produttivo, per cui bisogna avere l'accortezza di parlarne nella maniera giusta. E anche un settore, è anche un colosso dello streaming, come può esserlo Netflix, ma come lo è anche Vid e tutte le altre piattaforme di streaming che ci sono in Italia, deve essere il primo a non fare sbagli, perché il pubblico che va giunge è enorme, è anche facilmente influenzabile, perché parliamo soprattutto di adolescenti, di persone che non hanno informazioni precise nei confronti degli anime e che le tracolano da lì. Bisogna quindi stare attenti, e sì, so che magari c'è chi segue il canale e non gli interessa di questo tipo di video, ma per me è importante la stessa maniera fare video su analitici su anime e video del genere, perché parliamo di una community ancora ignorante, non in maniera offensiva, perché l'ignoranza non è offensiva, è una condizione normale, io sono un ignorante di scienza e di matematica e qualcuno può essere ignorante in anime, non è un peccato mortale, non muore di nessuno. Però viste le dimensioni che sta raggiungendo questo mondo, è sempre più importante non sbagliare, perché altrimenti ne si condiziona tutta la comprensione. E visto che a me quello che è sempre premuto, da due anni a questa parte, essere corretto e dare soprattutto sempre più conoscenza agli altri, perché la conoscenza che ho ottenuto io tramite lo studio e tutto il resto, permette davvero interessante, mi sembra davvero importante fare un video del genere, anche se evitato di molti mesi, rispetto all'uscita di Castelvania, rispetto alla raduncia di tutte quelle serie anime che hanno fatto. Spero che il video vi sia piaciuto in ogni caso, lasciatemi qui un commento, fatemi sapere cosa ne pensate di questa cosa, e fatemi sapere soprattutto se per voi la informazione di Netflix invece è corretta. Vi rimando a un prossimo video, vi ricordo comunque di condividerlo, questo mio intervento, perché per me è molto importante, questo è un video a cui tengo in un certo senso, e noi ci rivediamo a sabato. See you space cowboy!